Buone notizie per quanti nella nostra provincia o nelle Marche devono far ricorso alla terapia iperbarica. Dal 9 di agosto dopo un iter lunghissimo la camera iperbarica di Fano è stata convenzionata col sistema sanitario regionale. Stop alla mobilità passiva quindi in questo ambito per quanti dovevano farvi il ricorso in regime di convenzione e non avevano la possibilità economica di sostenere a proprie spese un ciclo di terapie in attesa poi a posteriori del rimborso del 40% della regione e che dovevano quindi, ob torto collo, migrare in Romagna sobbarcandosi però il costo della trasferta. Mentre prima era un pochino più difficile in quanto l'importanza dall'aspetto economico influiva molto spesso anche sulla non effettuazione della terapia. In questo momento invece entriamo nella struttura sanitaria regionale quindi con il solo ticket quindi la ricetta rossa è sufficiente poter accedere alla terapia. Quindi i cittadini questo ovviamente possono accedere a questa struttura sottoscrivendo una terapia dal medico specialista. Parlando di camera iperbarica viene subito in mente il subacqueo che non avendo fatto la decompressione rischia la vita ma in realtà sono molteplici le patologie che si possono curare con l'ossigenoterapia. Per esempio abbiamo molto spesso pazienti con sordità o ipoacusia improvvisa, ulcere cutanee, quelle che hanno una lenta guarigione sia nei pazienti diabetici che non diabetici, patologie dell'osso quali osteonecrosi asettiche oppure anche infezioni come le osteomieliti. Ovviamente ci sono pazienti che vengono anche dall'unità operativa dell'ospedale e quindi che hanno subito ovviamente traumi e che si trovano a dover trattare una sindrome compartimentale, un'ischemia traumatica oppure pazienti dalle unità operative di chirurgia plastica per i lembi cutanee e compromessi nel quale l'ossigenazione ovviamente è fondamentale per la sopravvivenza di questi lembi. Un itera burocratico lunghissimo e durato anni quello necessario per arrivare a questo risultato dove però nel breve termine è stato determinante l'apporto personale del consigliere Talè. La cosa che mi ha spinto a impegnarmi oramai da due anni per raggiungere questo risultato e qui devo ringraziare la pazienza del dottor Marchetti che ha avuto il titolare qui insomma della Camera Iperbarica, ha avuto tantissima pazienza nell'aspettare tutta la burocrazia e i gangli regionali. Quindi la salute è un diritto per tutti con 36 euro, 8 sedute si fanno anche qui in questa Camera Iperbarica.